Nelle piazze chi non fa parlare ha una sola, rappresenta diciamo una tradizione tragica di questo paese, quella stessa che ha fatto sparire Giacomo Matteotti. Chi non fa parlare l'altro è un fascista, non saprei come dire, se è un fascista è uno squadrista. Mi auguro che abbiate portato anche nel monetino così almeno potremmo finire e non squagliarci nel gran finale. Io penso questo, vedete, democraticamente potete discutere la decisione di Ricci con un referendum perché se la Giunta ha assunto una decisione democraticamente la decisione vada rispettata.